Allora, posso solo dirvi che ci dispiace, ma la focaccia di Recco che ci aveva portato Beggi, tre teglie, se l'è fatta fuori tutta Wall-E, come al solito. Wall-E, menti in maniera veramente poco credibile. Menti come Tim Cook. Sicurezza, c'è un troll con una giacca rossa da portare via. Allora, intanto buongiorno a tutti, ci scusiamo del fatto che ci siano dovuti trasferire in fraglia, ma del resto sento che piove un po' di più. Anche il prossimo evento sarà qui, in realtà siamo qui per un incontro sull'LTE. Tra i relatori che vedete alle mie spalle c'è Sergio Fasano, che è Marketing Director Mobile Broadband e Consumer di Tim, Andrea Beggi, che è il blogger tecnologico storico italiano da otto anni candidato a premio per il miglior blog tecnico. Ha vinto all'incontro. È vero? Esatto. Cosa diversa da me che ho vinto solo l'anno in cui era una ciofeca il premio. Poi abbiamo Luca Lagna, ovvero Ezechiel, che è l'ideatore del 140 News Network, uno dei principali network Twitter di informazione indipendente. Joshua Eld, con mezzi di fortuna, che sta disegnando. Ha finito anche l'inchiostro dei pennarelli, credo, con la lingua. Daniela Farnese, ovvero dottoressa Dania, ovvero la donna del momento. In qualsiasi libreria c'è un suo cartonato in questo momento, perché ha battuto Camilleri, mi hanno detto. È in classifica, in una posizione ancora più alta. Poi Mariangela Vaglio, ovvero Galatea, che è una delle blogger più amate del mitico nord-est, quindi non ha fatto nemmeno... È l'unica che non ha fatto tanta strada per venire qua. Ma ci ha messo tantissimo. Ma ci ha messo tantissimo. In effetti stanotte leggevo il suo Twitter ed era un po' un'odissea. era ferma in paesi con i nomi assolutamente impronunciabili. E poi abbiamo un altro losco personaggio, che è Marco Zamperini, ovvero il funky professor. Non ha bisogno di presentazioni e comunque anche se le avesse, se le è già fatte lui prima. Va bene, io lascio la parola a loro, che sono i titolati a parlare. Inizierei con Sergio Fasano, che introduce l'LTE. Molti di voi in realtà, molti di loro in realtà, non sanno cosa sia l'LTE, ma nemmeno il 2,5G o l'1,5, quindi gli va anche spiegato. Buongiorno a tutti. Prima di tutto dico che, essendo quasi un topo di ufficio, quando mi hanno detto che devi andare al blog fest, mi diceva, beh, ho capito, ma come la facciamo questa cosa? Delle slide, delle cose. No. Facciamo una conversazione. Ansia. Poi, adesso, proviamo, vediamo come viene questa conversazione. Intanto, diciamo una cosa, parliamo di Web is Mobile. Prima di parlare di LTE, di 42, che per noi, diciamo, per noi operatori sono qualcosa che è un mondo diverso da quello che è l'attuale tecnologia disponibile, l'attuale internet mobile. Parliamo di Web is Mobile, perché Web is Mobile non è 42 LTE, nel senso che è già oggi Web is Mobile, quando il 42 LTE non ci sono ancora. Cosa significa? Scusate, sempre perché sono un topo di ufficio, un po' di numeri, giusto per darvi delle dimensioni, no? Allora, in Italia ci sono 11 milioni di ADSL. Gli utenti dell'ADSL sono calcolati in circa 22 milioni, 23, circa 23, ok? Se contiamo le linee connesse, dati between, quindi linee connesse nella prima parte di quest'anno, linee connesse mobili, abbiamo superato l'ADSL di poco, qualche centinaia di migliaia, ma nella realtà, nella prima parte di quest'anno, risultano essere connesse, quindi linee che fanno traffico. 11 milioni di smartphone, altri 11 milioni mal contati fra chiavette, diciamo 10 milioni di chiavette di PC connessi in mobilità, più un altro milione di tablet. Che cosa significa? Che Web is Mobile è adesso, ancora prima di 42 dell'ETE. Cioè, significa che questo fenomeno è un fenomeno enorme, gigantesco, ancora prima di avere le tecnologie che portano l'ultra internet, quello che noi chiamiamo l'alta velocità, sui device mobili. Quindi l'LTE, prima di tutto, ma anche il 42. Quindi questo è la dimensione, è una dimensione enorme di questo fenomeno. Per darvi l'idea, ogni giorno ci sono 200 milioni di sessioni, oggi, a luglio, questo è il dato di luglio, circa 200 milioni di sessioni internet in mobilità, fra smartphone, tablet e chiavette. E questo è prima di quello che succederà. Quindi è difficile immaginare quali possono essere gli ulteriori spazi di crescita, perché è una cosa che non era prevedibile. Racconto spesso una storiella che nei nostri incontri con questi fornitori di... Una volta abbiamo incontrato il capo delle strategie di Ericsson, era qualche anno fa, dice, ma che penetrazione internet c'è in Italia, sugli smartphone? E dice, è più o meno il 10%. Dice, in quanto tempo pensate di raggiungere, di raddoppiare questa penetrazione? Qualcuno di noi si è avventurato, dice, ma un paio d'anni. Dice, ma forse non vi rendete conto di quello che sta succedendo. Voi arriverete al 50% di penetrazione, in un paio d'anni arrivate al 30-40% di penetrazione, non è che la raddoppiate. Qualcuno di noi era scettico, quelli un po' più col cuore forte, dice, ah, forse c'ha ragione. C'aveva ragione lui. Oggi siamo al 30% quasi di penetrazione sulle customer base mobili. Oggi. Ancora prima che venga deployato e, come dire, commercialmente reso disponibile il 42 e l'LTE. Deployato è brutto. Non si può sentire. Non si può sentire. Hai ragione. Il mio tutore. Ripresenta il mio tutore. Adesso la sicurezza formatterà mizzi. Da prof di italiano non si può sentire. È brutto, sì, davvero. E questo è un retaggio del topo d'ufficio. Ma è un ingegnere. Sviluppato, no? Non so, ingegnere, per carità. Un'altra cosa che vi volevo raccontare. Ci sono molte ricerche negli ultimi anni fatte su il tempo di gestione di uno smartphone. C'è stata fatta una del GSMA due anni fa. Vi cito la più recente. È stata fatta da O2 in occasione, nella prima parte dell'anno. E' venuto fuori che un cliente medio di uno smartphone utilizza in una giornata 25 minuti del suo tempo per fare browsing. 17 minuti specifici per i social network. 15 minuti per il gaming. Dice, ma ci telefona? 14 minuti per telefonare. Quindi, ormai, la telefonata, piuttosto che il messaggio, e l'SMS, ahimè, per certi versi, però, sono diventate funzioni che sono, non dico secondarie, però, sono in una classifica di tempo utilizzato, di quello che noi chiamiamo, come dire, tempo di permanenza nell'utilizzo del device, in particolare degli smartphone, sono, diciamo, nel terzo, quarto, quinto posto. Questo per darvi l'idea di quello che succede oggi, non quello che succederà domani. Per cui, Web is Mobile è oggi, già con le tecnologie attuali, oggi il parco installato in Italia di device, mediamente composti, diciamo, in tutti insieme, è per il 97%, tutto fatto di terminali, a 14.4 megabit, quindi con velocità e tecnologie che sono HSDPA+, però hanno, diciamo, delle performance relative. Da oggi, da quest'anno, questo è l'anno di partenza, ma l'anno prossimo in particolare, noi avremo una diffusione enorme di device a 42 e delle TE, quindi sarà, tutta questa cosa va ad incidere su questa base. Ok? Vediamo che cosa succede. Allora, c'è una cosa che già sta succedendo, ok? Che è il 42 mega, cioè il lancio dell'ultra internet della tecnologia migliore sulla vecchia tecnologia, diciamo, HSDPA. Il 42 già è una realtà, è una realtà per noi, ma è una realtà oggettivamente per tutti gli operatori. Adesso, ultimamente, c'è anche 3 che comincia a spingere su questa tecnologia. È un salto, e già quello rappresenta una discontinuità esperienziale, cioè, se uno guarda a differenza di esperienza, di customer experience del cliente, dell'utente, già quello rappresenta una discontinuità, perché ha delle velocità di picco ovviamente molto più elevate, delle performance più elevate, ha bisogno di una cosa tecnica, scusate se vado sul tecnico, che però è cruciale sia per l'LTE, sia per queste tecnologie, che è il cosiddetto backhauling, cioè la fibra che connette la rete, connette le celle, connette la rete che ci dà i segnali, che in passato era un imbuto, perché anche se io all'antenna ti do un'alta velocità, quando poi dall'antenna io connetto alla centrale con una bassa velocità, bassa capacità, è come se avessi creato un imbuto per i clienti, quindi il punto chiave di tutta la questione, ne abbiamo parlato forse altre volte, è questo backhauling, che è una roba tecnica, brutta, una brutta parola, però è così, cioè noi, la capacità di mettere tutta la rete affasciata con la fibra, primo, secondo, il 42 gioca su due canali, cioè due canali di trasmissione, utilizza due canali, tutti i prodotti 42 utilizzano due canali, quindi anche l'iPhone 5 per intenderci, le chiavette, i tablet, l'iPad, il new iPad, sono tutti, hanno due canali, quindi raddoppiano la capacità di trasmissione, quindi questa è già una realtà di ultra internet, per darvi un'idea, che cosa sta succedendo, noi adesso abbiamo un numero importante di clienti, già 42, fra new iPad e altri device, adesso arriva l'iPhone, con l'arrivo dell'iPhone 5, ovviamente gli smartphone hanno numeriche gigantesche, rispetto agli altri device, per dirvi, in Italia si vendono 6 milioni di smartphone, quest'anno, si venderanno circa un milione di tablet, e altri 2 milioni di chiavette, queste sono le dimensioni dei nuovi device, che entreranno quest'anno, nel 2012, sulle reti mobili, semplicemente noi stiamo guardando, che cosa sta succedendo agli utilizzi, il traffico raddoppia, solo già col 42, noi raddoppiamo il traffico, quindi già vediamo delle, con una forte, comincia anche a cambiare la relazione, fra downlink e uplink, cioè il download e l'upload, cioè fino ad oggi con le vecchie tecnologie, l'upload pesava, noi usiamo delle relazioni su questo, pesava il 10% del download, questa cosa col 42 già comincia a cambiare, comincia a crescere, sui device 42, non so cosa succederà con l'LTE, perché il 4G, che è un'altra rete, quindi è un altro layer di rete, ma ha sempre bisogno di questo backhauling, se sono troppo tecnico ditemelo, questo 4G porterà le velocità di download, fino a 100 megabit, nella prima fase, poi si può arrivare addirittura a 300 megabit, fra qualche anno, ma la cosa che quindi raddoppia tendenzialmente, la velocità attuale del 42 massimo, ma una grossissima innovazione del 4G è quello che succede sull'upload, perché la velocità di upload si moltiplica per 10, cioè se la velocità di download si moltiplica per 2, la velocità di upload si moltiplica per 10, questo è una delle questioni meno conosciute fino ad oggi, nel senso che è un fatto ancora ritenuto tecnico, io penso che sarà rispetto a quello che già sta succedendo, un moltiplicatore di esperienze, cioè un moltiplicatore proprio di utilizzi, cambierà, amplificherà la tendenza ad uploadare contenuti. L'altra cosa, poi smetto di parlare di cose tecniche, è la latenza, la latenza si divide per 10, oggi la latenza è 200 millisecondi, con le LTS si arrivano a latenza di 20 millisecondi. Tutti sapete cosa è la latenza? No, 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 la spiego, la latenza è il tempo per instaurare la connessione fra la rete e il device, quindi è un parametro tecnico particolare, in particolare sul gaming online, in millisecondi, in che situazione? Ma a Parigi! Io parlo dei dati, poi bisogna vedere dove è localizzato. Questo cambierà ovviamente, in particolare per esempio tutte le applicazioni interattive di gaming online saranno molto più agevolate. Questo è quello che Web is Mobile, che cosa significa Web is Mobile in questo mercato, in questo paese, in questo momento, cioè la dimensione, che cosa significherà avere queste nuove reti disponibili? Quindi questo è un po' lo scenario. Non so se... Commenti dal pubblico, a parte Spora, che la sicurezza adesso sta sgomentando. Volevamo dirti che ovviamente la rete di team va benissimo ovunque, e sospettiamo che tu sia una comunista mandata da Vodafone. Attenzione! Io sono tornata in Italia dopo 12 anni in Francia, in Francia avevo SFE, ma in Francia ti colleghi ovunque, non c'è problema, gratuitamente anche. Torno in Italia, chiamo il sommo nerd, Beggi, gli mando una, e mi dico, Beggi, cosa compro per connettere il MacBook Air, l'iPad e l'iPhone? Perché io sarò sempre in giro, e mi fa, prendi la saponetta della team, e mi ha dato un codice, una roba. Io sono andata nel negozio, e ho detto, salve signora, io non ho problemi di soldi, voglio la cosa più veloce e più sicura. sono il cliente perfetto. Questa, giusto? È un po', leggermente diversa, è quella che vedete a 300 euro sulle pubblicità a Milano adesso, PNT 80, non so che. 300 euro? Quella che ci si possono attaccare 10 device allo stesso tempo, ero felicissima. L'ha comprata con tre. Ma che? Con team! 300 euro però... 299, scusi. Allora che succede? Io faccio tutti i pippolini da sola, quindi va bene, una ragazza lo può fare, non tecnica, mi sono connessa ma è lentissimo. Io ho detto, vabbè sono a Castiglioncello, in campagna, in Toscana sarà per quello, diamogli il beneficio del dubbio. Piazza Castello, Milano. Io non so quanto tempo ho passato, nelle ultime settimane, a aspettare che quella paginetta si caricasse, avrei potuto rifarmi le unghie 5 volte al giorno. Quindi la sapone... Voi parlate, ci sono tantissime persone collegate, io non me ne intendo, io premetto, non sono tecnica per niente, quindi non me ne intendo, però la maggior parte degli utenti sono come me. Siamo sempre più ignoranti, sempre più tecnologici in realtà, più la tecnologia va avanti, più noi meno ne sappiamo, più ci fidiamo. Allora io non ho finito, perché ho una domanda. Lei, quando è in giro, si connette con quella, e quella funziona? Assolutamente. E perché non mi avete venduto quella? Perché evidentemente il negozio non gli ha venduto questa, ma questa è identica a quella che ha comprato. E non funziona? E allora... È lentissima. E non è che non funziona... Però c'è un tema, adesso, poi magari facciamo una verifica puntuale, ma il problema qual è? Allora, intanto io non sono un tecnico, quindi parliamo di, parliamo di temi commerciali, temi di... Appunto, questo è un tema completamente anticommerciale per voi. Adesso non abbiamo segnalazioni di questo tipo, tra l'altro credo che diversi degli amici che abbiamo incontrato quando abbiamo lanciato l'ultra internet da febbraio in poi, hanno avuto la possibilità di provare questi prodotti, esattamente la saponetta, se non ricordo male, o la chiavetta, ecco, questa saponetta. Io ho avuto solo commenti positivi su questo, quindi adesso poi Milano, Piazza Castello, evidentemente c'è un problema. Però c'è un tema. Intanto noi commercialmente non è che promettiamo questo tipo di velocità, nel senso che la rete mobile, questo è un punto cruciale, scusate se... Perché è cruciale perché riguarda la rete mobile, ma non riguarda la rete fissa. Cioè quello che un cliente chiede alla rete fissa è che non può chiedere alla rete mobile. Lo dico perché è giusto che siamo settati tutti sulla stessa cosa. La rete mobile... Non siamo così pronti per essere veramente mobili come vorremmo. No, però i numeri che le ho detto... Siamo nella preistoria della mobilità allora. Sì, sì, ma guardi, i numeri che le ho detto però non mi sembrano proprio dei numeri irrisori. Credo. La quantità di utenti che si connettono, infatti la scusa che mi è stata data è siete in troppi. E allora mettete più flusso, mettete più bit, non so... Stavo arrivando proprio a questo. La rete mobile è una rete finita. A differenza della rete fissa, che quando vende una DSL, dà a quella DSL, a quella linea, una sua... una linea propria, quindi dove il cliente naviga, la rete mobile è finita. Cioè, che significa? Condivide le risorse. Cioè, in questo luogo, oggi, se tutti ci connettiamo a 42 megabit qui, noi ci dividiamo le risorse di questa rete. Questo fa parte proprio della logica, della logica strutturale. Vuol dire che la vostra tecnologia è sbagliata? Beh, la tecnologia... Se mi state dicendo che è finita, che io non ho futuro, io mi avvilisco, e allora girerò con un servet attaccato con la... Non lo so. Io voglio connettermi velocemente. Cosa state facendo? Scusate, sono ignorante e lo faccio apposta, ma come si risolve? Perché è frustrante. Allora, scusi, le dico che cosa investe Telecom su questo, perché... Allora, Telecom ha investito un miliardo e duecento milioni solo di licenza del 4G. Sta investendo un miliardo per fare la copertura... Un miliardo di euro. Un miliardo di euro per fare la copertura del 4G. e sta investendo una porzione importante di risorse. Quindi stiamo parlando di quasi mezzo miliardo di euro ulteriore per fare la copertura del 42 Mega. Che significa trasformare tutta la rete che già ha col 42. Quindi è chiaro che ci possono... Siccome è quello che lei mi ha chiesto, l'internet mobile si basa su una rete che è condivisa. Quindi ci sarà sempre una condivisione di risorse. Anche fra dieci anni quando avremo l'LTE alla massima potenza. Quindi è un internet con una certa tipo di capacità che è non voglio dire limitata. È condivisa. È una cosa un po' diversa. Però avere un'esperienza come quella che si può avere non so se avete provato un iPad qui a 42 piuttosto che a Roma in centro a Roma noi non diciamo che si raggiungono 42 Megabit ma si raggiungono serenamente 7-8 Megabit. Una DSL oggi se la sogna 7-8 Megabit perché la rete scarica man mano che si caricherà comunque queste risorse verranno condivise. Però il trend è un trend inequivocabile cioè quello che succederà è qualcosa di inaspettato e è anche poco prevedibile per le dimensioni. Lei c'ha ragione. Evidentemente o ha un problema tecnico che possiamo verificare perché mi sembra molto strano oppure evidentemente c'è c'è molto affollamento in quella zona. Tutte le zone dove io vado. Magari facciamo una verifica. Sì facciamo una verifica. Adesso vi do io il nome e cognome e anche l'indirizzo di Spora così sono un personaggio vi fate carico del suo problema però effettivamente fortunatamente in generale anche se un po' a macchia di leopardo in Italia la rete cellulare funziona no? E perché tutti noi viviamo professionalmente no? Anche di questo tipo di cose con dei problemi di copertura. Io vi ricordo che già l'anno scorso avevamo fatto un incontro qui a Riva con Marco Patuano che ci ha raccontato che comunque la banda larga sarebbe arrivata prima tramite rete cellulare che tramite rete fissa per tutta una serie di motivi e Sergio in effetti ci sta raccontando che sta succedendo no? Quindi questa implementazione sta andando avanti. Allora il punto che secondo me è abbastanza sarebbe interessante capire è se effettivamente questa diventa l'infrastruttura per la banda larga. che è nel nostro paese che vuol dire sì perché ci piace essere social fare le foto caricarle vedere i film e i contenuti sicuramente ma a questo punto una rete cellulare di prossima generazione che poi oltre a essere deployato non so bene il termine comunque direi messa in esercizio nel corso dell'anno prossimo diciamo diventa effettivamente un'infrastruttura anche per il business o va a soddisfare semplicemente il bisogno di tecnomaniaci come noi altri che caricano foto ossessivamente quindi siamo felici della cresciuta capacità di upload e della diminuita latenza assolutamente allora una cosa che è importante è che non bisogna guardare la banda larga mobile in contrapposizione con la banda larga fissa anche perché io prima ho insistito su quell'aspetto tecnico del backhauling cioè la fibra che costituisce il territorio della rete ecco il backhauling è un'infrastruttura comune anche per la fibra del fisso quindi significa che man mano che si sviluppa questo backhauling anche la rete fissa che ha dei tempi molto più lunghi e dei costi molto più elevati porterà la sua alta velocità non bisogna guardare le due reti in contrapposizione tant'è vero che io ho insistito stamattina e quello che vi posso dire quello che noi immaginiamo è che il futuro sia di navigazione soprattutto dagli smartphone che è qualcosa completamente diversa cioè la dimensione della navigazione da pc mobilità è una dimensione complementare a quella da casa tant'è vero che abbiamo un alto tasso di sovrapposizione fra clienti fissi e clienti mobili la cosa che crescerà la cosa che noi prevediamo crescerà in modo esponenziale è l'esperienza dell'internet mobile sullo smartphone che è qualcosa di diverso che che anche in termini di performance necessita di pochi interventi cioè di una qualità non necessita del 42 megabit nel senso che non è percepibile su uno smartphone basta avere un 2-3 megabit e il telefono ha un'esperienza perché poi è la percezione che è importante questo è quello che volevo dire cioè fino ad oggi effettivamente è vero il business della banda larga mobile è stato visto in contrapposizione con quello del fisso cioè come sostitutivo in futuro saranno sempre più integrati perché quello che poi succederà ma questo poi sarà uno dei temi di oggi pomeriggio quello che succederà è che saranno poi le applicazioni i servizi trasversali ad essere fruiti a seconda del device questo è molto importante quindi potrei un inundomani riuscire a avere finalmente un unico abbonamento fisso mobile integrato non 18 sim una per l'ipod uno per l'iphone uno per l'iphone questo è un tema orizzonte immaginario non raggiungibile è un tema che tecnologicamente è complesso però la cosa importante è dare al cliente l'informazione e la sua una capacità di gestire tutte le linee che ha sicuramente noi avremo tanti device sempre più anche più di due per cliente connessi quello quello che deve fare un'azienda di telecomunicazione è dare la capacità al cliente di gestirli in modo semplice questo sicuramente avverrà Joshua hai elaborato qualcosa noi abbiamo il nostro disegnatore a marcia ridotta perché qualcuno si è io ho dei sospetti qualcuno si è rubato la lavagna con i fogli credo Wally per usarla come tovagliolino non so se c'è qualcosa ma noi non lo vediamo ah lo vedo lo vede il pubblico cos'è no tu non puoi parlare Wally giro faccelo vedere anche a noi un luogo dove non usare la MTE mi è caduta la saponetta va bene Beggi come giustamente ti ha chiamato in caos come giustamente diceva il discorso di avere così tanta velocità su uno smartphone è un relativo vantaggio perché comunque giustamente quando si hanno qui due o tre megabit sono sufficienti per garantire un'esperienza di fruizione nel web adeguata alle esigenze il driver per avere così tanta velocità in più potrebbe essere quello del video però effettivamente se uno schermo da 3-4 pollici non mi interessa avere un filmato in 1080p va bene comunque ristreamato alla giusta risoluzione per il mio device quindi comunque ho bisogno di banda inferiore quello che è importante invece secondo me è il fatto che avendo questa tecnologia 42.2 e in futuro LTE siete costretti a avere il backcalling fibra il che vuol dire che questa banda comunque è una banda diciamo di 2-3 megabit ma una banda di 2-3 megabit ha l'attenza più bassa e comunque con qualità superiore perché comunque è la differenza che c'è fra una 8 megabit venduta a 19 euro all'utente in casa piuttosto che la 8 megabit con banda garantita che vendi a un'azienda che ci attacca a 50 pc benché la velocità di target sia la stessa le prestazioni sono diverse la qualità della banda è diversa e anche per la fruizione del browsing e del web in se stesso non c'è bisogno di questa grandissima banda in più dal punto di vista proprio dei valori assoluti perché comunque su questi oggetti la navigazione e l'utilizzo si è spostata dal browsing dal browser alle app e alle web app secondo me al momento gran parte di quello che si fa e che facciamo non lo fai col browser di Android di iOS o di BlackBerry quello che usi ma usi l'applicazione che poi parla con i suoi di HTTP e quello che è con i server quindi comunque hai l'applicazione che quindi intanto gira in background gira in push quindi comunque la velocità percepita a quel punto voglio dire che io sia in Edge o in GPRS al limite da una parte o in LTE dall'altra magari il messaggino mi arriva un minuto dopo ma mi arriva lo stesso quindi comunque la forza della cosa è il fatto che la qualità della rete migliora però secondo me l'altra faccia della medaglia è che e secondo me in questo caso ci sono delle lavoro da fare il fatto che l'utenza e i consumatori vanno informati bene in questo senso e gli esempi sono questi qui nel senso che molte persone come Veronica mi chiedono eccetera e molte hanno difficoltà a capire la differenza di questi uniti ma come a casa 8 e mi costa così e in questo mi dicono 14,4 mi costa cos'ha però cavolo non funziona va piano o problemi o se sono in un posto dove c'è tanta gente non funziona ma perché non lo capiscono e secondo me un passo avanti potrebbe già essere quello di fornire alle persone dei contratti più chiari che non abbiano clausole in corpo 6 grigio chiaro che non si trovano nelle pagine web che dicano in 5, 10, 6 punti che cosa fa la connessione quali sono i veri limiti che ha il fatto questa cosa della condivisione della banda il fatto che la banda è finita il fatto che i 42,2 i 14,4 sono della cella e non sono della tua connessione del tuo telefono questa cosa è una cosa che sanno in pochi o comunque non è nota tutti è un po' fumosa un po' perché evidentemente dal punto di vista di chi la fornisce non voglio dire che sia malizia ma se non te lo dico te lo dico poco magari è meglio dall'altra secondo me invece saperlo ti dà una consapevolezza diversa ti dà delle aspettative diverse quindi secondo me nel futuro bisognerà comunque pensare anche a questo a questa cosa e d'altra parte questo tipo di utilizzi e il tipo di dati che davi prima dimostrano che le telecom attualmente stanno passando da fornitori di diffonia di voce eccetera a fornitori di connettità a fornitori di bit quindi cambia completamente la cosa al momento sono dati che mi ha dato un vostro competitor qualche tempo fa credo che nel momento attuale con i contratti attuali i dati siano sussidiati dalla fonia e dagli sms cioè chi naviga e usa tanto gli smartphone lo fa a spese di chi manda tanti sms o chi magari si abbona a quei servizi tipo le suonerie o fa tante telefonate perché quei servizi alle telecom costano poco ma li fatturano tanto perché il costo a bit di un sms è una roba stratosferica rispetto a quella di una mail quindi ci servirà credo anche da parte vostra un cambio di prospettive il punto è cruciale perché questa è una cosa che abbiamo toccato in altri incontri la riprendo perché è proprio qui il tema giusto per darvi le dimensioni anche temporali in Italia ma nel mercato ci sono voluti 15 anni per costruire una rete che portasse miliardi di minuti nata per portare miliardi di minuti e miliardi di sms siamo partiti a metà degli anni 90 fino a due anni fa questo era il mandato delle reti mobili le reti mobili dovevano portare quantità enormi a circuito come si dice tecnicamente cioè senza un ingombro dal punto di vista broad dal punto di vista internet senza pacchetti portare miliardi decine di miliardi di minuti all'anno decine di miliardi di sms da due anni quello che sta succedendo da meno di due anni quello che sta succedendo è che sta cambiando completamente il paradigma cioè la rete deve cambiare completamente e diventare una rete che trasporta pacchetti di dati tant'è vero che in prospettiva quello che succederà è che l'ETE e tutta la rete sarà una rete dati cioè fra tre quattro anni noi avremo una rete che trasporterà solo dati anche la fonia anche anche il costo della fonia e il valore della fonia sarà diciamo passato attraverso i dati non ci sarà più la rete a circuito viene completamente sostituita dal punto di vista tecnologico è un cambio proprio di paradigma completamente IP lo standard dell'ETE ha uno standard VoIP attendere cioè una voce su IP nel momento in cui siccome poi dal punto di vista regolatorio queste cose stanno avvenendo perché poi il valore del circuito riguarda l'interconnessione ma non voglio entrare nel tecnicismo alla fine si arriverà a trasportare solo dati ma questo in un paio d'anni quindi voi immaginate quello che sta succedendo in 15 anni di costruzione della rete la rete è stata dimensionata e strutturata dal punto di vista tecnologico per portare minuti d'SMS poi a un certo punto qualcosa cambia e diventa una rete che deve portare dati quindi era quello che vi dicevo prima cioè qual è la penetrazione degli smartphone noi ci speravamo in quello che sta succedendo ma erano i più ottimisti che ci speravano sta succedendo qualcosa che è veramente esplosivo questo volevo dire con un impatto tecnologico enorme io sono quella che si candida a fare le domande sceme per il buonissimo motivo che no no perché proprio sono ad un livello basilare di capacità di usare internet nel senso che già l'altro giorno sono riuscita a configurarmi da solo in nuovo modem a casa mi sembrava di essere diventato un ingegnere in compenso non funziona quindi voglio dire faccio parte della proprio della base che non capisce un accidente di niente di tecnico e volevo avere proprio delle informazioni allora il futuro quindi mio è la saponetta per riuscire a connettermi in mobilità è quello che userò in futuro al posto di allora volevo sapere ma adesso al momento attuale ci si connette già con è coperta già tutta la rete ci sono dei posti dove funziona meglio funziona peggio cioè quali sono le zone coperte uniformemente oppure ci sono dei luoghi dove già è più avanti e altri in cui anche con la saponetta non funziona allora a parte piazza castello che abbiamo capito che è un buco nero il futuro passa per tanti device connessi ok le saponette i tablet gli ipad gli smartphone quello che noi stiamo vedendo è che gli smartphone sono la parte più tumultuosamente in crescita cioè la gente tende a portarsi dietro il suo facebook il suo twitter eccetera oggi e questo anche questo è un vincolo tecnologico la rete tutta la rete ha una capacità diciamo trasmissiva media dopodiché ci sono dei luoghi in questo momento in Italia ci sono circa un'ottantina di città almeno parlo per quanto riguarda Telecom Italia poi quindi le principali città italiane sono coperte a 42 megabit quindi hanno una rete a 42 megabit che permette di migliorare l'esperienza quello che succederà è che questa copertura sarà sempre più larga e integrata con il 4G che partirà con una ventina di città all'inizio sempre le principali città italiane e poi si espanderà una cosa molto importante è che il 4G in particolare lavorando su frequenze a 800 megabit non voglio dare adesso spiego la questione che ha visto non è un tecnicismo permetterà di avere delle coperture molto ampie questo non immediatamente però nei prossimi anni permetterà anche di coprire delle zone con relativamente basso costo di impianto quindi anche zone un po' fuori dai centri urbani perché l'800 megabit permette di avere delle aree di copertura molto molto grandi una domanda ok sì ce l'ho quasi fatta cioè facciamo un patto io vi insegno a non usare deplodare quei verbi la e voi mi spiegate qualche termine tecnico riusciamo a trovare un sistema ci si può incontrare Dania sì io volevo fare una domanda ancora più scema qual è in Italia il numero di persone che ancora non sono connesse cioè che usano ancora la rete per telefonare a parte a parte il mio attuale fidanzato per dire proprio non ha manco lo smartphone ma facendo cento parlando di rete mobile facendo cento i clienti le linee mobili i clienti mobili che sono in Italia ancora un buon 70% del totale sì appunto però i numeri però quello che vediamo sì esatto quello che vediamo è che basta mettere uno smartphone in mano a un cliente che prima aveva aveva un altro telefono cambia completamente l'atteggiamento l'attitudine io ho visto con mia madre che appena gli abbiamo regalato uno smartphone ha subito detto ehi posso chiamare con Skype ecco gli ho svoltato la vita questo si vede per dire la velocità la velocità del cambiamento la velocità del cambiamento perché questo è quello che vogliamo significare sta succedendo qualcosa che è una velocità enorme due anni fa nessuno pensava che Nokia potesse perdere la leadership del mercato dei telefoni cioè sono passati due anni non è passato l'iPhone c'era però era una nicchia ma nessuno avrebbe mai pensato che Nokia perdeva la leadership oggi non è più il primo Motorola è sparito cioè è una rivoluzione c'è una domanda dal pubblico due no Wall-E non può me l'ha morsicata volentieri sentiamo la sua domanda grazie no per collegarmi è quello che diceva anche Andrea la signora prima io ieri ho effettuato un testo con la saponetta team qui arriva e sono arrivato a 13 megabit quindi funzionava molto bene però per esempio l'altro ieri sono andato a TechCrunch Italy con la connessione 3 dove si vocifera nelle pubblicità abbiamo potenziato la rete a 42.2 in tutta Italia non arrivavo neanche a un megabit perché lì c'erano molte persone adesso il tema della saturazione delle reti è importantissimo in America lo stanno già trattando perché a New York naturalmente ne sono pieni fino ai capelli e quindi dovrete prima o poi trattarlo anche voi ora lo so che non è un problema solo di team ma anche di tutti gli altri operatori e non riguarda solo la navigazione dati ma anche quella voce perché per esempio qualche mese fa dove sono andato a concerto di Madonna a Firenze non riuscivamo neanche a telefonare talmente del numero di persone che erano in quell'area eravate lì per ascoltare musica sì ma volevamo dire ciao mamma bellissimo qui mi sto divertendo un mondo non potevamo farlo adesso facendo corna se accadeva qualcosa un incendio o qualcosa moriamo tutti e nessuno lo sapeva no? perché la cella era intasata eravate tornati al 92 alla prima Madonna quando non c'erano ancora i cellulari quindi prima o poi penso che dovrete affrontare il problema della connessione dati perché per esempio a casa mia arriva 8 megabit ma se vado al centro di Roma arriva un megabit la cosa non è molto carina per gli utenti e naturalmente come diceva prima Andrea dovrete fare trasparenza anche su questo perché se mi vendete un prodotto e dite ah con questo navigherai a 42.2 in una città come Caserta dove non c'è dove ho visto gli operatori telefonici nei centri di assistenza a dire ah signora compri questo così lei portarà a navigare a 42.2 quando in realtà era una palese bugia penso un po' di trasparenza verso i clienti sarebbe una cosa carina vuole una domanda breve per favore allora voi dovete sapere che con mio papà faccio coming out San Perini anche se sembra mio nonno comunque mio papà facciamo parte di un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di scuola e noi viviamo si chiama impara digitale e noi viviamo tutti i giorni a contatto con le scuole scuola in centro a Bergamo centro pieno centro a Bergamo a 500 metri da la sede della provincia fibra ottica arriva in provincia 500 metri 7500 euro per portargli fibra ottica ADSL Telecom non supera i 5 10 K di velocità in upload e download centralina piena il Ymax ce ne hanno due uno non arriva quello veloce perché è coperto da una casa e l'altro quello meno veloce riescono a prenderlo in estremis allora noi portiamo avanti una didattica digitale abbiamo scuole che al momento tipo l'Ussano di Bergamo hanno qualcosa come 500 600 tablet che si collegano contemporaneamente il ministro Profumo nella spending review ha obbligato a utilizzare sistemi elettronici per registri elettronici come fanno ad utilizzare queste povere criste di scuole questi servizi se non hanno la banda perché lì si parla di migliaia di studenti che si collegano contemporaneamente da ogni scuola l'LTE può essere una soluzione o continueranno a essere tutti i bei progetti quelli della scuola sulla carta perché tecnologicamente non ci possiamo mai arrivare e tu Zamperini ogni tanto parla di queste cose grazie 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 per la domanda Wally grazie per la domanda non so se Sergio puoi rispondere ma allora sicuramente il potenziamento era quello che dicevo prima è in corso cioè vuol dire sta cambiando completamente l'industria cioè non è una spingere un bottone significa prendere 15 anni di investimenti e su quelli rifare completamente l'infrastruttura cioè stiamo parlando peraltro da parte di aziende private perché poi questo è la logica quindi questa è una cosa che è in corso quindi sicuramente questi trend vanno in quella direzione primo secondo una cosa che volevo dire la nuova tecnologia del 4G proprio perché nasce con la logica di trasferire dati e non chiamate o sms si basa su diversi livelli di copertura cioè una tecnologia che permette di avere in base alle frequenze alte performance di copertura in piccoli luoghi con la frequenza 2006 cioè una logica di hotspot questo che cosa permetterà di fare permetterà di evitare quello che succede al concerto di madonna piuttosto che tutte le domeniche tutte le domeniche in uno stadio che la gente non riesce a telefonare ma questo perché perché la vecchia la vecchia tecnologia condivide una banda e crea un imbuto domani siccome questa copertura è fatta a diverse a diverse grandezze c'è una parte di questa copertura che permette di fare proprio gli hotspot come se fossero wifi ma è ma è tecnologia mobile quindi permette di coprire i posti ad altissima densità di traffico e così via fino ad arrivare a quello che dicevo prima delle grandi aree di copertura per andare a coprire le aree rurali proprio perché nasce per portare dati e deve tenere presente tutte queste dinamiche di affollamento cioè è stata pensata in tutti questi anni per risolvere questi problemi ci vorrà tempo non è istantaneo però è quello che sta succedendo sta succedendo oggi per quanto riguarda il tema della DSL ovviamente non so il caso specifico sicuramente come avete letto come sapete ci sono anche lì ci si sta muovendo verso la fibra che poi è quello che cambia l'esperienza anche perché come dicevo c'è una base comune fra la rete mobile e la rete fissa che è questa fibra che noi stiamo mettendo a terra per tutti i clienti quindi sicuramente nei prossimi anni questa situazione migliorerà grazie anche alla concorrenza perché il tema di MetroWeb ha fatto sì che ci fossero delle accelerazioni quindi sul mondo del fisso assolutamente importante questo un'altra cosa sulla trasparenza sono d'accordissimo sul tema della trasparenza però vi inviterei seriamente a fare un assessment dei costi degli operatori di quelli di quelli nascosti quelle noticine scritte in corpo 3 parlo di internet in questo momento però in generale su questo non voglio dire nulla però guardatevi come sono fatte per esempio queste nuove offerte di Vodafone fatevi illimitate ok andate a guardare andate a guardare se poi quel costo mensile è un costo che finisce lì forse avrete delle sorprese per quanto ci riguardano i costi i costi che dichiariamo quelli sono perché abbiamo completamente eliminato costi nascosti volevi sì no io penso sto sempre pensando in ottica diciamo utenti cosa ci si può fare con queste nuove velocità e allora stavo cercando di riflettere che spazio rimane per la definizione con queste nuove velocità su mobile per diciamo nuovi tipi di servizi o di situazioni creati dagli stessi utenti immagino per esempio adesso il discorso è chiaro è molto ampio però il peer to peer il peer to peer può permettere di definire dei servizi in qualche modo definiti dagli utenti o servizi che adesso noi non conosciamo ancora magari potrebbero in qualche modo venire fuori allora intanto questa diciamo è la prima parte poi forse c'è una seconda sulla domanda sono cioè peer to peer reti che danno con certe regole danno la possibilità le nostre reti danno la possibilità di fare questo tipo di di che tipo di regole cioè no che tipo verso quali tipi di regole andiamo andiamo a porci ecco nel futuro questo allora allora il tema è partiamo sempre dal concetto che questa è una rete condivisa quindi bisogna che in questa rete ci siano delle regole di base che permettano di dare un livello di servizio minimo o un po' più che minimo a tutti quindi partendo da questo noi dobbiamo mettere dei limiti a non significa che blocchiamo i servizi questo no però ci devono essere delle regole dei limiti all'abuso cioè se io sto in una in una cella in un luogo è proprio perché è condiviso e mi metto a fare peer to peer quindi scarico da BitTorrent una quantità di informazioni importante tolgo almeno per oggi nel senso che poi la rete va dimensionata e sarà sempre più dimensionata meglio però tolgo risorse agli altri quindi ci sono per esempio nella nostra rete delle regole che dicono che oltre chi in una certa cella che si rileva affollata fa un utilizzo evidentemente spropositato noi in qualche modo questo fa parte delle regole contrattuali che noi diamo noi in qualche modo lo gestiamo cercando di ridurre l'impatto sugli altri clienti per tutelare gli altri clienti questo significa insomma in qualche modo il valore del peer to peer adesso supponiamo che si tratti di un in qualche modo di un upload di contenuti quindi di una riproposizione a tutti gli altri di una serie di contenuti probabilmente in qualche modo chiaramente correggetemi se sbaglio ridistribuisce un pochino il carico cioè se tutti ci mettessimo adesso qui a fare upload tutti insieme di un video perché sta accadendo qualcosa c'è un evento e tutti quanti facciamo il video di questa cosa tutti insieme naturalmente la rete ancora più si blocca probabilmente una app un servizio peer to peer non mi riferisco a nessuno probabilmente non esiste ancora non lo so ipotizzo per il futuro potrebbe permettere a tutti quanti di in qualche modo scaricare questo tipo di situazione e quindi diciamo questo tipo di nuova infrastruttura o questo tipo di upgrade di infrastruttura sostiene potrebbe sostenere questo servizio o a certe regole sì ok queste regole già esistono naturalmente adesso è chiaro che no no non sono particolarmente nascoste ma sono delle soglie altissime in questo momento chiaro che se parliamo di download da BitTorrent di musica e video ovvio che è chiaro questa cosa crea dei problemi di qualche tipo è nell'ottica di servizi possibili e anche di app che possono essere creati in questo senso noi ci immaginiamo anche che ci sarà una polarizzazione degli utilizzi cioè nel tempo certi gli utilizzi legati al browsing a servizi diciamo che noi chiamiamo a relativa bassa intensità di banda tenderanno ad andare sul mobile sui smartphone i tablet eccetera la DSL il fisso andrà a a drenare cioè ci sarà una tendenza oggi oggi ci sono vero delle situazioni abbastanza simili soprattutto se se paragoniamo questi oggetti alla DSL in futuro tenderanno a polarizzare perché poi la crescita sarà su device un po' più mobili di questi questi ci saranno ma sono sempre complementari alla DSL al mondo fisso questi sono i device i smartphone i tablet sono i device che sono in vera mobilità quindi poi alla fine quello che succederà ci sarà una polarizzazione tendenziale polarizzazione dei servizi servizi a minore intensità di banda come dicevo il bras ma anche il video diciamo un video di base quelli tenderanno ad andare sul mobile mentre si concentreranno servizi ad alta intensità sulla DSL tutto ovviamente supportato dalla crescita della rete qualche commento va commentato secondo me è meno critica questa cosa perché ormai questi dispositivi come tutti quanti abbiamo in un modo o nell'altro sono connessi alla cloud nel senso che i nostri dati sono condivisi fra tutti i nostri dispositivi quindi nel momento in cui faccio una foto la foto mi va a finire su Dropbox piuttosto che su iCloud piuttosto che da un'altra parte quando accendo il mio portattolo al mio computer di sua casa me la trovo già lì tutto in cloud tutto in cloud capisci in cloud c'è una nuvola italiana da questo punto di vista è meno critico perché comunque tornando al discorso di prima essendo una cosa gestita all'interno dell'applicazione viene gestito anche l'upload a sincrono o comunque sempre tenendo conto della disponibilità di banda quindi anche se io faccio un video adesso che dura due minuti non è che mi si satura la banda perché vuole applaudare tutto subito poi quando trova banda piano piano ora non sono tutte così le applicazioni però sicuramente si evolveranno in quel senso perché non ha senso sprecare banda preziosa per fare un upload di un video perché non mi interessa che vada in linea immediatamente anche se ci va fra dieci minuti un quarto d'ora è la stessa cosa se la situazione richiede un'immediata comunicazione diciamo così di questo di qualcosa che sta accadendo cioè no sicuramente è chiaro è verissimo quello che dici è evidente stavo pensando in ottica di servizi futuri cioè che non tanto che cosa facciamo adesso e quindi potremmo fare meglio ma che cosa potremmo fare fra un po' probabilmente di solito succede che tu introduci una nuova tecnologia e non sai bene quale sarà poi l'uso che ne farà la gente che è quello l'uso giusto cioè è bello quando la gente trova nuovi utilizzi delle cose che tu gli metti a disposizione che tu non hai neanche pensato prima senza contare che spesso è accaduto che sono stati dei software o delle applicazioni o delle idee che hanno permesso di capire come sfruttare meglio una tecnologia che già c'era probabilmente che era stata utilizzata nel 96 gli operatori di telefonia e cellulare pensavano che la gente avrebbe usato i cellulari per chiamarsi far chiamate vocali credo che la percentuale di utilizzo generale sia attorno al 20% il tempo che si usa per fare le chiamate quindi il mondo cambia anche perché chiaramente gli utenti trovano dei profili di adozione della tecnologia che sono imprevedibili gli sms li hanno inventati per sbaglio credo hanno trovato questi bit non c'ero hanno trovato questi bit avevano dello spazio in più e uno l'ha utilizzato e mando il messaggino servivano per fare i test della rete esatto giocco cosa cosa hai disegnato intanto salutiamo l'arrivo di mantellini cosa del quale io personalmente mi rallegro grazie mantellini perché così non sono più il blogger più vecchio della blog fest presente in questo momento grazie grazie per essere tra noi cosa ci racconti qualcuno che diceva che sotto una certa velocità non è da considerarsi quella roba che dicevate voi insomma prima quindi ecco la vignetta è questa qua wow sto andando velocissimo sotto i 30 megabit non è vero amore a letto ovviamente perché io ce l'ho più larga la banda ci sono e ce l'ho anche più lungo l'iPhone chiaramente è più piccolo l'iPhone 5 però no però è più lungo non so va bene no basta Spora non dargli il microfono penso che c'è un problema semantico anche di comunicazione oggi avete parlato di condivisione della rete noi non vogliamo condividere la rete noi vogliamo condividere dati quindi cambiate gli termini altrimenti è brutto diciamo non è molto chic Spora ma ci sono no non passa per niente bene secondo me anche se è vero purtroppo ho scoperto questo oggi sono delusissima ma è la verità sei scioccata Pavolini fai qualcosa per Spora che non lo vogliamo di stare ci sono gli addetti alla sicurezza capisco che non condivideresti mai il tuo tacco 12 però è una cosa un po' diversa diciamo che c'è un livello di intimità differente siamo lunghi o posso chiedere un'ultima cosa io lo so penso che possiamo continuare per giorni per giorni finché Neri non ci manda via e poi intanto piove quindi chi cazzo se ne va stiamo qui belli tranquilli accendete la stufa però con freddo cane potete ordinare anche dei caffè se volete con un tweet un caffè con un tweet dopo la birra con un tweet ok visto che stiamo parlando proprio di sms quindi di tutte le tecnologie ovviamente oggi moltissimi non usano più gli sms usano altri servizi che vanno su ip e da questo punto di vista più aumenta la disponibilità di banda più questi servizi pur essendo ovviamente non impegnativi però saranno diffusi in qualche modo volevo sapere quale sarà non dico adesso ma anche nel prossimo futuro l'atteggiamento nei confronti di questi servizi cioè ovviamente ah che bello ho più banda in più uso Skype ah che bello adesso diciamo non è Skype un altro che verrà esatto Whatsapp o qualsiasi altra cosa quindi quale sarà l'atteggiamento verso queste cose cioè ormai è quello che si vende a questo punto è più che altro la banda a prescindere dal o no no ci sarà c'è già esiste già una esistono delle delle policy di gestione del traffico che permettono di di dare la possibilità ai clienti di gestire anche Skype Viber FaceTime qualsiasi applicazione sia di VoIP messaging piuttosto che ovviamente cercando di tutelare il valore dell'industria questo significa che il il valore dell'industria mobile si sta spostando come diceva qualcuno prima da voce sms a dati ancora oggi forse lo diceva la parte preponderante è quella quello che deve fare l'industria è cercare di mantenere questo valore nel tempo spostandolo da una parte all'altra perché comunque le infrastrutture costano l'industria ha una sua struttura che comunque va in qualche modo tutelata domande dal pubblico una domanda un blogger a caso non ti conosciamo sei un giovane di Riva giovane direi proprio di no a proposito di questi servizi tipo Viber Whatsapp insomma credo che sia dominio pubblico cioè voi sapete che la blogfest è un posto di grandi tresche e le tresche tipicamente il blogger è voluto le gestisce usando questi servizi comunica con tutte le varie amanti tramite Whatsapp non sappiamo di cosa stai parlando e credo che tu non sia un blogger varie amanti il blogger medio varie amanti dopo avremo l'autorevole ecco no volevo solo dire che si sa che da circa una settimana chiunque avendo il numero email e craccando facilmente diciamo così l'algoritmo di protezione dei messaggi di Whatsapp può simulare di essere un altro account quindi sappiate tutti quanti che usando questo tipo di servizi best effort non siete sicuri nelle vostre comunicazioni solo con il wifi allora vuoi dire che non era veramente non è esattamente il massimo della sicurezza quindi attenzione col tempo magari anche loro troveranno modo di proteggere le informazioni in modo un po' più accurato però per il momento c'è qualche piccola differenza sotto qua Pavolini per il sociale perché informazioni fondamentali per salvare fidanzamenti e matrimoni esattamente Dania se il vostro partner sa sniffare il traffico sulla connessione wifi preoccupatevi io volevo dire che di solito l'utente che gestisce vari amanti è così poco tecnico che non arriverà mai a craccare un whatsapp quindi non vi preoccupate ecco ecco scusa Wally potresti alzarti in piedi per un attimo per favore questo qui è un esempio tipico di geek no? va bene grazie grazie sì Felter ho una casa allora io avrei una domanda e un consiglio la domanda è in previsione futura io sono in giro devo dare delle informazioni dei contatti e così via mi piacerebbe dare il mio contatto non il numero di telefono di questo cellulare piuttosto di quell'altro dopo tutto io ovunque sia che sia a casa piuttosto che da qualsiasi altra parte stiamo dicendo che ormai non ho più un identificativo legato a che cosa sto usando o a dove sono ma l'identificativo ormai è la persona c'è in previsione futura questo questa visione di cambiamento cioè il fatto di dire non sarà più un numero di telefono o un identificativo numerico ma ci sarà un modo per raggiungere semplificare questo tipo di contatto e sganciarlo da quello che è la singola sim ma legarlo alla persona ad esempio adesso ormai si è passati all'ipv6 ipv6 teoricamente permetterebbe di dare un identificativo fisso e continuo a un oggetto persona quello che è indipendentemente senza preoccuparsi di questo tipo di gestione chi mi conosce sa come contattarmi ma sa molto più facilmente come mi chiamo e quindi ci dovrebbe essere anche da questo punto di vista un criterio di semplificazione per quanto riguarda il consiglio invece visto che è saltato fuori più volte magari come per il tantumoroso scrivete sulle istruzioni della saponetta non va messa sotto l'acqua prima di essere usata perché non vorrei che magari ci fossero delle problematiche di questo tipo tu sei quello che ha messo il gatto nel microonde per asciugarlo per asciugarlo prego questi è ancora adesso poi i pv6 è un tema se abbiamo citato temi tecnici i pv6 è un tema iper tecnico quindi sicuramente c'è un approfondimento su questo anche che poi l'ipv6 sarà un lungo processo non sarà un processo breve perché bisogna garantire un processo intanto partirà l'anno prossimo diciamo sta partendo però in parallelo con l'ipv4 perché bisogna garantire la fruizione di tutta di internet da tutte le e quindi l'allineamento di tutti i portali di tutte le applicazioni che non dipende dall'operatore o dalla rete ma dipende da chi fa l'applicazione e quindi bisogna mantenere per anni probabilmente due o tre anni insieme pv6 e pv4 il che complica un po' le cose rispetto a quello però sì è ovvio che anche quello in prospettiva può essere una tu interessante io volevo leggere un contributo da twitter di un blog sconosciuto che si chiama Gallizio che dice tutti in attesa del nuovo abbonamento team gangbang fino a 10 device collegati contemporaneamente quando si dice banda larga notiamo che mafe si distocia e il famoso editore Gallizio tra di noi anche lui oltre a Mantellini che fa finta di non conoscerci altre altre domande dagli amici hai un'altra vignetta questo lo regaliamo a battiferri direttamente ma posso fare una domanda sociologica visto che insomma il mio profilo tecnico è veramente imbarazzante ma questa l'evoluzione di questa tecnologia farà sì che la gente tornerà tutta in piazza a incontrarsi perché non serve più stare cioè prima per comunicare stavamo seduti in un loculo da soli e comunicavamo con il mondo adesso adesso che c'è il mobile usciamo e comunichiamo con il mondo sincronicamente a nascosti dietro a piazza a milano nascosti dietro una colonna a twittare comunque può essere è vero che si sta trasformando anche il modo di comunicare incredibilmente poi è partito dalla piazza per stare chiuso in casa una decina d'anni assolutamente quindi stiamo solo in compagnia come? stiamo solo in compagnia adesso in qualche modo forse probabilmente così amici adesso qui o Neri distribuisce degli scaldini ci abbracciamo tutti no in realtà fra 5 minuti esatti inizia il panel di google buona sapersi quindi rimanete qui per gli scaldini mi informo se sono previsti se potesse informare dottor Neri va bene anche perché tra lì noi ci sono delle persone anziane come volevo ricordare parlo di me naturalmente fra 5 minuti qua intanto grazie a tutti grazie 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 soprattutto a Sergio che è sempre più perplesso